Si è tenuta domenica 6 ottobre la cerimonia di inaugurazione di Casa Betania che d'ora in avanti offrirà assistenza e conforto alle donne vittime di violenza. Si è concluso dunque il percorso di riscatto dell'immobile situato in via Orazio Aqualiano che confiscato alla Camorra è stato affidato in comodo autoduso garantito per 30 anni alla parrocchia Maria Santissima Immacolata. Firmatare del contratto già nel mese di luglio nella persona del sindaco Ludovico De Luca il comune di Qualiano che si occuperà di pagare le utenze e don Francesco Martino in rappresentanza della parrocchia che provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Presenti alla cerimonia che ha visto simbolicamente la consegna dell'immobile sua eccellenza Monsignor Angelo Spinillo alla guida della diocesi normanna il sindaco De Luca l'assessore alle pari opportunità Biancaccio i componenti dell'amministrazione e rappresentanti militari e civili. Casa Betania, luogo biblico dove Gesù incontrava e si confrontava con amici aprirà le porte alle donne che in mancanza di riferimenti e assistenza necessitano di un sostegno immediato. A loro disposizione vitto e alloggio è il sostegno di due psicologhe un medico e un avvocato in sinergia con i servizi sociali del comune di Qualiano. Durante la cerimonia il sindaco De Luca e l'assessore Brancaccio hanno presentato dunque Casa Betania come un punto di riferimento per tutto il territorio e la comunità ma soprattutto per quelle donne che vittime di sopruse e violenze e prive di alternative non vedono via d'uscita.